Vai, vai. Oh, ma sono scemi questo! Come? Perché? Io sento calda. Adesso basta. Anch'io sento fredda. I ragazzi sono a posto. No, no, io sono piccola, lo so. Io sono stata capacente di andare alle terme e di andare in giro. Sono alle terme con la piccola. Oh, sì. Vedi una mano a formarsi. No. Non ho capito niente, però c'è un raccoglio. Ora qui io sono stupetato. Barbaro. Barbaro. Uh! Vado, vado. Vedi? 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 Vedi, vedi. Vedi, vedi. Vedi, vedi. Vedi? Ma ma, perché non vuoi fare yoga? Ma che yoga? Io muoio se faccio yoga. Perché? Non mi può affatto. E io sto facendo sta caldo. Comunque è tutto. Vabbè, non so le risestre. Guarda che dittino che ho. Ehm, sì, c'è un bittino. Ah, un bittino da Vesta, eh. Da Vesta? Vesta. Ah, sì. Grazie a tutti.